ciao a tutte benvenute nel mio video e in una nuova recensione oggi vi voglio recensire il sito cardita shop è un sito nato non da tanto tempo io l'ho trovato casualmente perché stavo cercando delle polveri a rilievo e per l'esattezza possibilmente quelle della ranger perché sono quelle che hanno comunque le confezioni più grandi ne ho diverse mi trovo bene e quindi stavo cercando quelle della ranger la ranger è una ditta che comunque americana quindi io ne ho comprate alcune sublitti però logicamente le avevo prese prima cosa nel periodo dei saldi seconda cosa avevo anche il buono perché mi ero appena registrato quindi non avevo pagato di per sé la spedizione io non acquisto mai da siti comunque extra europei a meno che non si parli di aliexpress quindi parliamo di importi dove sono sicuri di non pagare poi la dotana appunto perché non voglio incorrere in questa tassa dove soprattutto per delle polveri a rilievo se mi fermano un pacco in dogana tutto quello che magari ho guadagnato perché lo pagate poco le vado a pagare più di che andarla a comprare in un negozio fisico ho trovato questo shop casualmente mi sono imbattuta e ho visto che aveva un buon range di colori per quanto riguardava le polveri a rilievo siccome l'ordine non l'ho fatto solo per me se avete visto il mio unboxing l'ordine l'ho fatto insieme a Nadia io avevo bisogno solo di comprare delle polveri lei però era interessata a iniziare a utilizzare la tecnica dell'embossing quindi aveva bisogno di tutto il materiale compreso l'embosser e lei mi aveva detto che se io trovavo dei prezzi buoni di farglielo sapere che eventualmente si sarebbe unita me all'ordine ho trovato questo sito abbiamo parlato su whatsapp gli ho girato anche lei il link logicamente per farvi vedere i colori per congnuno i suoi gusti e io alcuni comunque li avevo già abbiamo concordato l'ordine l'ho fatto partire io allora prima cosa facciamo una premessa appunto perché è uno shop che c'è da poco in magazzino ancora c'è poca roba comunque tiene prodotti che è sicura di riuscire a vendere per quanto riguarda altri prodotti sono reperibili in tempi brevi presso il suo fornitore e spiega tutto comunque in questa parte del sito dove c'è spedizione a tempi e costi altri articoli che non sono subito disponibili possono variare i tempi di consegna ma lei comunque ve lo fa sapere vi parlo di questo è iniziato appunto da questa parte del discorso perché io ho avuto modo per il mio ordine di parlare telefonicamente con la proprietaria del negozio dove appunto mi ha spiegato perché ancora non è tanto rifornito lo sta aggiornando man mano sta aggiungendo linee e così via però mi ha detto una cosa interessantissima ossia che lei si rifornisce da un venditore che tiene tutte le marche logicamente parliamo di marchi che vendono da con l'aiuto di rivenditori quindi non parliamo di monomarca che vendono solo tramite il loro shop online o tramite i loro negozi quindi chiusa la premessa e federica è il nome comunque della proprietaria mi ha detto che basta inviargli una mail o comunque mandargli un sms con o il codice del prodotto o il prodotto che interessa lei si informa immediatamente dal suo fornitore se il prodotto è disponibile magari nel colore nel modello che voi cercate vi fa sapere il prezzo vi fa sapere le tempistiche perché logicamente in quel caso non è un prodotto che lei ha lì disponibile i tempi magari possono allungarsi e dopo voi decidete se volete acquistare o meno dopo lei mi ha detto che se ad esempio lei dovesse ricevere molte richieste di un prodotto specifico in automatico lei lo va a aggiungere nello shop ma anche se così non fosse e interessa solo una persona ma lei riesce comunque ad averlo dal suo fornitore lei volentieri se voi vi va di aspettare lei ve lo procura quindi è stata gentilissima perché lo stesso discorso vale per il polvere a rilievo lei mi ha detto che se a me piacciono altri colori oltre a quelli che lei ha prenotabili sul suo shop basta che io gli mando il nome del colore e lei si informa con il venditore se li ama e li fa arrivare logicamente i tempi sono più lunghi però vi è sicuro che per il prezzo che le ho pagate ne vale più che la pena io posso giudicare quello che è la parte dell'imbossatura perché è quello che io ho comprato e abbiamo comprato comunque perché Anadia serviva la pistola della colla a caldo dell'artemio 7 mm di cartuccia l'abbiamo pagata 6 euro e le ricariche 3 euro essendo di marca non è tanto comunque un prodotto proprio per scrapbooki dopodiché Anadia abbiamo comprato l'embosser sempre dell'artemio 18 euro è un ottimo prezzo abbiamo comprato il Versamark che è il tampone trasparente apposta per imbossare ad asciugatura lenta quello colloso e l'abbiamo pagato 2 euro 80 lo stesso discorso per le penne quella doppia punta sempre quelle trasparenti della Versamark 2 euro 80 le polveri a rilievo della Ranger 4 euro e 50 lei attualmente tiene la Ranger ma solo per un motivo perché ha visto molti video su youtube logicamente la tecnica dell'embossing è utilizzata soprattutto dalle americane e nei video si vedono i prodotti della Ranger ciò non toglie che se noi siamo interessate alle polveri dell'artemio basta chiederglielo se il solo il venditore le tiene lei le fa arrivare più che volentieri io ho anche quelle dell'artemio che ho trovato da Zodio e mi trovo bene comunque uno dei motivi per cui comunque abbiamo fatto io e Anadia abbiamo scelto un ordine cumulativo è per il fatto che comunque andavamo ad ammortizzare quelli che sono i costi di spedizione perché praticamente fino a 100 euro come potete vedere dallo schermo il contributo delle spedizioni sono di 12,90 euro e 100 euro in su sono gratis quindi è per questo che abbiamo deciso di fare un ordine cumulativo perché comunque andavamo a non avere le spese di spedizione per quanto riguarda invece i metodi di pagamento io ho scelto di pagare con il conto Paypal in quel caso si pagano le commissioni le commissioni che mi sono state applicate sono di 2,91 euro però logicamente essendo la prima volta che io compravo da questo sito non l'avevo mai sentito nominare non era una cosa un ordine comunque solo per me io comunque volevo tutelare anche la persona con cui stavo comunque facendo questo ordine abbiamo preferito pagare le commissioni allora voi potete pagare in contrassegno con una spesa aggiuntiva di 7 euro la ricarica sul conto Postpay Paypal o carta di credito e qua spiega il sistema sicuro Paypal potete usare la vostra carta di credito con i massimi standard di sicurezza oppure se preferite potete passare dal vostro account Paypal che vi dà ulteriori garanzie utilizzando il sistema Paypal Pro integrato direttamente nella nostra pagina le spese amministrative per le commissioni della carta di credito sono interamente a carico nostro il pagamento anticipato avviene alla fine della procedura dell'ordine quindi vabbè qua vi spiega potete comunque fare il bonifico io ad esempio all'ultimo momento mi ero accorta di non avere comprato due versa Mark Small ne volevo un altro anch'io avevo l'ordine ancora aperto gli ho pagato col bonifico gli ho inviato lo screen del bonifico effettuato e a me il giorno dopo mi ha fatto partire l'ordine oppure si può comunque andare di persona se provvedete personalmente al ritiro verso il nostro punto venite in via Borghi 84 a Bibiena Arezzo potete pagare con il metodo a voi più comodo compreso con tanti assegni in questo caso selezionate come modalità di pagamento bonifico e inviateci una mail specificando che intendete pagare in contanti alla consegna per il ritiro sarà necessario fissare un appuntamento perché comunque di per sé non è un negozio è comunque una piattaforma online quindi per chi è di Arezzo meglio ancora non ha questi problemi noi comunque abbiamo scelto di fare l'ordine cumulativo noi abbiamo avuto le spese gratuite quindi io ora vi mostro quello che io ho comprato e io so che ho risparmiato andiamo alle polveri per embossing e vi assicuro che questo è uno dei siti dove io ho trovato più range di colori possibili perché veramente si fa fatica a trovarle come vedete ce ne sono di vari tipi io per l'esattezza ho preso il gold non ho preso il tinsel se non mi sbaglio devo avere preso il gold sì ho preso il gold normale abbiamo preso il silver il tea rose il lime green lo sky blue il rosa quart il beige io ho preso il light blue abbiamo preso il viola abbiamo preso qua c'è scritto ranger marrone ma il copper comunque in realtà è il rame poi io ho preso il buttercup che è un giallo uovo ho preso questo antracite dato che vi faccio vedere la cartella per chi fosse interessato all'encant and gold io l'ho comprato su blitzy e praticamente si vedono solo i glitter è un dorato con dentro i glitter verdi io l'ho provato ad utilizzare ed è allucinante perché è solo glitter e non vedi niente di colore quindi per fare in modo di poterlo utilizzare io l'ho miscelato sia con una polvere dorata che non mi piaceva perché è molto scura e anche al verde e lì rimane bene per questo il tinsel non ero proprio sicura se prenderlo o meno perché le polvere a rilievo comunque già virano a cambiare rispetto al colore che voi vedete ad esempio un esempio più stupido è il copper come vedete sembra un bronzo però io perlomeno io quello della ranger in questo caso non l'ho ancora provato io ho il copper dell'artemio e per chi ha visto comunque le mie decorazioni settimanali diventa il rame classico quindi vi assicuro che questo è già una buona gamma di colori difficilissimo da trovare in Italia così tanti colori poi lei mi ha assicurato che comunque se è possibile lei ordina anche altri colori basta inviare comunque i nomi e i modelli perché come potete vedere ci sono comunque vari tipi da quelli comunque tipo c'è lo snowflake tinsel che sono solo glitter questo è il nero classico il white ci sono diverse comunque fantasie già questi anticati cambiano molto quando vengono imbossati io pensavo sinceramente perché io ho il torquese di questa linea che fosse con le scaglie dorate però quando mi è arrivato mi dà più l'idea di un rosa normale devo vederlo una volta che lo imbosso questo tia rosa è molto carino perché è un tipo un arancione che tende al salmone bisogna vedere dopo è imbossato come esci il lime è proprio così io l'ho usato già diverse volte dicelo già e io ho preso ad esempio sia lo sky blue che il light blue perché non li avevo io ho il turchese però anticato quindi con dentro le pagliuzze dorate e dopo ho l'azzurro dell'artemio che è molto bello però sono tutte tonalità diverse vi è sicuro che 4,50 euro in questo caso è veramente poco adesso vediamo cosa vi posso mostrare che possa interessare vi mostro un po' le fustelle io queste ve le mostro a titolo informativo io di prezzi non me ne intendo sulle fustelle perché io non ho la big shop questa è la marca che tengono questi sono i vari modelli io ve li mostro giudicate voi dopo i prezzi a me durante la telefonata che ho avuto con la proprietaria mi ha detto che la sua politica come shop online è quello di tenere i prezzi più bassi possibile e cercare di avere comunque un buon compromesso tra i vari siti che vendono questi prodotti sulle fustelle io sinceramente non mi esprimo perché non le compro non ho la big shop non ho la toga quindi qua abbiamo dei clear stamp e qua già un po' insomma posso giudicare anche se io non ne compro in giro ci sono diversi modelli molto carini logicamente qua si parla sempre comunque di clear stamp di marca ci sono diversi modelli veramente molto graziosi non sono due pagine ve ne mostro tutte due tanto non sono tanto ok come vedete è già finita tutto sommato i prezzi non sono male comunque vendiamo hanno anche i blocchi acrilici logicamente che sono quelli che servono per utilizzare i clear stamp li hanno in cinque misure vediamo andiamo in strumenti e accessori niente qua è un po' generico vediamo comunque ecco io vi posso dire ecco vi vado sull'artemio vi faccio vedere la pistola della colla caldo l'embosser vedete adesso ok l'embosser si vede che è terminato perché non c'è comunque c'è anche quello l'abbiamo preso costa 18 euro si vede che probabilmente è terminato vediamo dovrebbero esserci vediamo cos'hanno come fustellatrici ok sono i punch normali e questi sono i modelli che ci sono e qua vabbè decidi di filtrare per marca quindi all'artemio fiscar e real memory keeper vediamo poi vediamo macchine ok parliamo di big shot non vorrei sbagliarmi ma non mi sembrano male i prezzi allora abbiamo la big shot plus lo starter kit quindi è quello che ha dentro già anche delle fustelle costa 164 euro abbiamo la big shot only a 98 la big shot plus only a 140 la big shot pro a 349 deve essere quella elettrica e dopo abbiamo gli accessori quindi il tappetino gli adattatori e così via 164 euro non mi sembra male sinceramente dopo scrivetemelo voi nei commenti da quello che ho visto io in giro non mi sembra male comunque come prezzo ai tamponi e i tamponi sono già divisi in quelli d'asciugatura rapida che sono quelli che si usano per le timbrate normali abbiamo i tamponi trasparenti che di solito sono quelli che comunque si usano per imbossare quindi abbiamo il versamark noi abbiamo preso il versamark small c'era anche il versamark normale 6 euro e 40 vi assicuro che è basso perché di solito è sui 7 euro e 90 la penna come vi dicevo 2 euro 80 e dopo c'è anche l'inchiostro da imbossing della distress ma io non li ho mai provati quindi non so dirvelo io vi assicuro che il versamark è ottimo la distress è un'ottima marca quindi presumo che sarà buono anche quello però non intendendomi vi mostro velocemente carte decorative questa era una recensione semplicemente perché comunque io mi sono trovata molto bene è già il fatto che è una persona molto disponibile e può reperire qualsiasi cosa per il momento nel suo store non ci sono ancora le agende però se non ci interessa un modello specifico di agenda se il suo rivenditore ce l'ha lei ce la fa avere io ad esempio più avanti comunque voglio comprarmi una 5 e sicuramente proverò a chiedere a lei se per caso magari nel tempo non è già stata aggiunta perché comunque io la voglio prendere per il 2017 perché comunque ormai ho la personal o la color clash dark pink uso quella non voglio mi seccherebbe usare un'altra agenda anche perché io non riesco ad usare più agenda insieme ne ho una con tanti inserti con tanti divisori e a me mi va bene così quindi mi basta avere tante sezioni in un'agenda io cerco un'agenda con gli anelli capienti e io sono a posto questi sono alcuni esempi di alcuni pad di carte ce ne sono alcuni che comunque come prezzo non sono male tipo questo a 10 euro e 50 il prezzo non è male come vedete se dopo a voi vi interessa magari un modello specifico per qualche progetto chiedete e lei vi dice se riesce a reperirvelo in quanto tempo e a che prezzo io con il sito chiudo qua perché comunque mi sembra assurdo è una perdita di tempo anche per voi mostrarvi tutte le sezioni io vi ho mostrato quello che magari può interessare tipo le fustelle perché non me ne intendo così quelle le giudicate voi per quanto riguarda le polveri da embossing è uno dei prezzi più bassi che io ho trovato in Italia e soprattutto ha veramente tantissimi colori perché 20 colori sono tanti vi assicuro che ci sono siti molto conosciuti da cui io comunque ho anche già acquistato che hanno uno o due colori capite che se una persona vuole fare un ordine prima cosa per ammortizzare già le spese di consegna perlomeno deve acquistare un po' di prodotti perché se no non ne vale la pena e seconda cosa comunque mi piace vedere le polveri logicamente l'ideale secondo me sarebbe poterle vedere dal vivo ma in questi tipi di materiali è una cosa impossibile quindi vai a fortuna delle volte sei sorpreso in maniera piacevole delle volte no ad esempio mi è capitato di comprare su blizzi un argento perlato io pensavo che era semplicemente un argento normale con la finitura perlata lui è per carità un argento è perlato però è veramente chiarissimo quindi per forza è un colore che dovrei usare su un cartoncino scuro io per il momento non ho neancora la passione di fare le card quindi dove posso andare a utilizzare cartoncini più scuri io prettamente decoro l'agenda decoro gli inserti quindi colori molto chiari a me sono scomodi perché a me mi servono comunque dei colori che spicchino sulla base bianca sicuramente è un colore che utilizzerò perché le card mi intrigano però non sono neancora entrata nel concetto anche perché forse la mia agenda è talmente piena che se gli aggiungo anche qualche card già anche solo quelle motivazionali non la chiudo più perché già così con la mania adesso che ho di fare gli inserti io ne tengo in agenda tanti logicamente non li tengo tutti io ho una scatola dove metto gli inserti li tengo cambiati però ce ne sono alcuni come ad esempio quello delle farfalle quello di Sailor Moon che quelli sui panda che ho ancora in agenda il problema è che logicamente già avendo un'agenda con moltissime sezioni avendo dentro tanti inserti per quanto la color crash abbia la possibilità veramente di mettere dentro il mondo la mia si chiude giusta giusta altro non ci sta quindi le card mi piacciono però io non le utilizzo in agenda perché attualmente ho un'agenda che non mi permetterebbe di farlo è per quello dato che comunque non la porto sempre con me perché già la mia borsa pesa veramente troppo la mia idea ho visto dato che la lascio molto spesso a casa l'agenda mi è comodo avere la casa e comunque mi serve da portare in giro raramente quando magari ho degli appuntamenti o comunque devo prendere degli appuntamenti devo consultarla allora la porto in giro se no comunque la tengo in casa mi fa bene anche una 5 io spero che sia stata una cosa gradita farvi scoprire questo sito io non so quante di voi lo conoscono io non l'ho mai sentito nominare e già ve l'ho trovato alla quinta pagina di google io non so quante persone hanno la patenza di arrivare alla quinta pagina di google però siccome che io cerco sempre di trovare le cose che mi interessano al minor prezzo possibile io vado anche alla decima pagina non c'è problema volevo condividere con voi questo sito perché io ho trovato dei prodotti interessanti dei prodotti a buon prezzo so che comunque se dei prodotti non ci sono posso provare a richiederli ed è un servizio che altri siti non hanno perché se non hanno il prodotto non te lo ordinano quindi il servizio che offre questo sito secondo me gli dà qualcosa di più perché veramente il potere ordinare un prodotto ovviamente nel limite delle possibilità di quello che può essere comunque il suo fornitore è comunque già una buona cosa perché se io so che ci sono le polvere della ranger logicamente magari questo fornitore mi reperisce anche i colori magari quelli più particolari secondo me questo dà un qualcosa in più al sito e valeva la pena di condividere perché comunque io mi sono trovata bene quindi posso fare solo un'ottima recensione a me è stato dato un coupon quindi mi è arrivato tutto ben in scatolato con una bella velina con il regalo un coupon io il coupon l'ho dato a Nadia perché era un coupon sconto sui timbri e le fustelle io di timbri ne ho già una marea fustelle non le prendo perché non ho big shot non ho toga quindi l'ho dato lei poi non si sa mai che magari in futuro lo usiamo perché facciamo un ordine insieme di nuovo però intanto quello glielo ho già spedito a lei così noi siamo a posto comunque mi sono trovata veramente molto bene era la prima volta che acquistavo e mi sembrava giusto comunque recensire bene il sito perché mi sono trovata bene io ve ne sto parlando spontaneamente a me non è stato regalato nulla lo voglio specificare non che pensate che sto facendo una recensione perché ho avuto qualcosa in regalo no tutto quello che avete visto nell'unboxing sono cose che io e Nadia abbiamo pagato di tasca nostra vi recensisco il sito solo perché ci siamo trovate bene è giusto comunque condividere comunque quando ci si trova bene in un sito e quando non ci si trova bene appunto perché si evitano fregature o comunque si aiutano altre persone magari che sono entrate anche da poco a scoprire nuovi siti e soprattutto si aiuta un sito che è appena nato dato che offre comunque un buon servizio è una persona molto disponibile lo si aiuta magari a crescere e così magari gli si permette anche di abbassare i prezzi che è una cosa che sarebbe utile anche per noi quindi con Cardita Shop è tutto ciao a tutte e alla prossima